in questo video parleremo del darwinismo sociale la democrazia significa potere del popolo ma poi nella realtà dei fatti è il popolo l'oggetto da essere governato molto spesso al popolo gli piace ricevere dei racconti come delle favole invece che sapere la realtà dei fatti e questo appunto va sotto il nome di populismo alla nascita appunto ognuno di noi nasce da specifici genitori e in un luogo specifico e ciò comporta delle ereditarità che noi abbiamo da parte dei nostri genitori eredità biologiche che sono appunto quelle naturali eredità culturali eredità sociali ed eredità economiche un esempio di eredità biologica è il colore della pelle non possiamo far nulla per cambiarlo perché è fissato nei nostri geni l'eredità economica invece è quella delle società capitaliste infatti marx per esempio voleva abolire il diritto di successione e poi c'è anche il discorso della cittadinanza che viene ereditata dai genitori lo ius sanguis e quindi l'identità biologica e questo è quello che sia in italia oppure la cittadinanza del luogo di nascita il cosiddetto ius soli che più un'identità geografica che è presente negli stati uniti poi in italia c'è per esempio anche lo ius culture che è un momento necessario in italia per avere la cittadinanza in realtà tutto dovrebbe essere basato sul darwinismo sociale quindi fondare leggi della società su quelle della giugla cioè in poche parole favorire la sopravvivenza del più adatto e darwin stesso se ne rese conto che l'evoluzione culturale ha nella nostra specie preso il posto di quella naturale quindi lo stato di natura ha lasciato il posto allo stato di cultura